E poi ripartire nel contropiede, quindi la camera del sonno con il jump dall'altra parte, Murillo! La chiusura, ancora Murillo! Murillo! Che funziona qui al Paladon Sun! 9 minuti fa, mette a terra il pallone, lo protegge, il pallone per Murillo! Murillo! Trova in corsa un grandissimo gol! Marcato stretto da Grippi, qui Ramos, gran palla di Ramos! Sul secondo palo per Schiocchette, gol dell'ex! La Kame accorcia a sorpresa dopo 29 secondi del secondo tempo, se già Baviera, Grippi dalla distanza, Coco e poi di nuovo Schiocchette in una palla che danza nell'area di rigore sulla rimessa di Coco Wellington. Segna ancora la Kame do Sonno. Piano Mannino e ci riprova! E il pallone entra in rete! Per vantaggio! Da parte di Murillo all'improvviso! Una saenza che si insacca! Paccia il palo alla destra del portiere avversario! C'è il pallone, Wanafran, Murillo, Murillo! E il gol! Murillo! Poi c'è il direzione di Murillo, scocca, attenzione, gran palla! E poi gran gol! Veramente molto bello si è riperato del suo avversario con una finta! 3 a 1! Gruppietta di Murillo! Grippi! Murillo! E c'è un'ottima, un'ottima palla! Quella di Murillo che vedremo tra poco! Coppice Pozzo, secondo me Pozzo non se l'aspettava! Eccolo, guardiamolo! Vedi c'è una leggera deviazione! Infatti c'è il tiro e poi il tentativo! E la rete! E il gol è il vantaggio della Kame con questa ribattuta di Murillo! Che ha sfruttato al meglio questa occasione di Trangelo! Per Bellasito, Ucherani cerca di andare via all'avversario! E poi il servizio! Per Murillo! E sono tre ora! Le marcature di differenza tra le due formazioni! Ancora con un'ottima azione costruita dalla Kame... ...di tutto in questo match Igor! E poi la rete! E la marcatura di Murillo! Che arriva a 7 minuti e 11 secondi dal termine della partita! Al pala mal fatti di Rieti! Sì, assolutamente! Infatti viene premiata con il gol del 2-1 ancora in preparata! La difesa del Real! La palla che viene imbucata dal centro! Sì, assolutamente! Sì, assolutamente!